Tragedia sfiorata a Milano dove un uomo di 78 anni aveva deciso di togliersi la vita dopo aver appreso della morte del suo più caro amico a cui voleva bene come un fratello. L'uomo caduto nello sconforto più profondo aveva deciso di impiccarsi con una corda al balcone di casa sito al settimo piano di uno stabile in zona città studi a Milano. Fortunatamente però dopo i frenetici tentativi di salvargli la vita da parte dei carabinieri tutto si è concluso per il meglio. Alla centrale operativa di via Moscove è arrivata una chiamata di un residente della zona che ha spiegato di vedere un uomo penzolante fuori dal balcone. Una volta arrivati i soccorsi l'uomo muoveva ancora le gambe nel vuoto e recuperato è stato messo in salvo. Il 78enne è stato trasportato all'ospedale Niguarda dove è tuttora sotto osservazione. Grazie.